Non era una partita facile perché sapevamo che era una squadra che giocava a calcio e infatti ci hanno messo subito in difficoltà però siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e portare il risultato pieno a casa. Sì, sono contento per il gol però noi siamo una squadra che ci crediamo sempre non è la prima volta che magari andiamo sotto e poi ribaltiamo il risultato. Siamo stati bravi a crederci abbiamo trovato subito il pareggio e poi è arrivata la vittoria siamo contenti.